Senza il seme del passato non può fiorire il futuro. Palazzo Tiene per Vicenza è oggi più che mai un germe storico e culturale che, se verrà ben innaffiato, produrrà grandi frutti. Per questo, noi di Reteveneta, ci siamo schierati al fianco dei cittadini in una battaglia sacrosanta durata anni affinché l'antica sede di BPV, scrigno di tesori artistici, fosse acquisita al patrimonio pubblico e trasformata in un museo aperto a tutti. Oggi questo traguardo epocale è stato tagliato. Il Comune di Vicenza ha acquistato il palazzo e adesso si sta lavorando per riaprirlo. Già nella manovra di bilancio abbiamo messo 60.000 euro. Riteniamo che dopo la metà di settembre cercheremo di organizzare un bel evento di apertura e di consegna del palazzo alla città. Ringraziamo l'assessore, ma rilanciamo. Dieci giorni fa il governo, su richiesta del sindaco Francesco Rucco, ha esercitato il diritto di prelazione su sette tele del Tiepolo provenienti da Palazzo Valmarana Franco di Vicenza. I sette dipinti erano andati all'asta ed era stata avanzata un'offerta di 1.850.000 euro da parte di Benetton. Invece, esercitata la prelazione, le preziose tele andranno allo Stato che le lascerà a Vicenza. E allora, noi di Rete Veneta proponiamo che questi sette dipinti, alti quasi 5 metri, per una lunghezza lineare complessiva di 17 metri, trovino la loro nuova casa a Palazzo Tiene. Un buon auspicio, un modo per battezzare il nuovo tempio della cultura di Vicenza. Grazie.